Burloni, oggi su Minecraft proverò a battere altri 10 nuovi trickshot. Quale skills il ragazzo server mi farà imparare oggi e mi metterà davanti per mettermi in difficoltà? Leggiamo subito la prima. Questo trick consiste nel fare un dropper e fare un water MLG. Perché questa cosa mi fa totalmente paura? Ma ragazzo server, io ti dimostrerò che se i nostri burloni da casa lasceranno un mi piace in questo esatto momento, io lo farò al primo tentativo, ci credi? Lasciando pure le nuvole, sei pronto? Vado? 3, 2, 1, vado. E se si scrivono pure ancora a me? Vabbè, non... Non c'era bisogno di... Vabbè, easy, no? Cioè, va bene lo stesso, no? Facendolo così. Torno su. Ah, arrivato, va che è meglio. Ma sì, ma tanto per... Stavo dicendo, per il boss è easy, ma il boss qua non sono io, mi sa. Ok? Stuk. Edz! Sono... Ma in che senso? Perché sono morto? Mi ha fatto... Ma sei sicuro che l'ho fatto prima? Siamo sicuri... Lo rifaccio nel caso? L'hai fatto o l'hai fatto? Sicuro? No, perché lo rifaccio senza problemi, guarda. Stuk. No, non l'ho fatto. Aspetta un attimo, lo voglio rifare! Ok. Ok, l'ho fatto adesso. Boom! Primo trick shot eseguito. Trick numero 2. Questo trick consiste nel servarsi dall'acqua, ma devi usare un arco. Ma che belli questi blocchi, signor ragazzo server. Ok, cosa devo fare? Ah, oddio, ho capito. Penso di aver capito. Aspetta un attimo. Io faccio così. Così. È tosta ragazzo server, è tostissimo. Aspetta che deve tornare su. Deve tornare su, perché sennò non vale. Ok. Mamma mia ragazzo server! Ma come ti è venuto in mente questa cosa? Allora raga, praticamente la drip leaf, se ci vado sopra, vedete che cade di conseguenza. Ma la stessa cosa succede nel momento in cui io ci vado a buttare una freccia sopra, vedete? Questa scende direttamente e io posso andare nell'acqua. Tanta roba questo trick! Trick shot numero 3. Questo trick consiste nel fare un paio di salti molto complicati. No, mi senti... No, sì. Ma io queste cose qua le odio. Ma è impossibile fare questo. No, questi qui non sono capaci ragazzo server. Cioè ti giuro, questi qui posso anche non farli. Che tanto non ci riesco. Cioè non sono proprio... No, non è... Io li odio questi salti qua. Come si fa a fare, scusami? Cioè ma come ti è venuto diamine in mente? Ma scusa, è fattibile? Adesso tu vieni qua e me lo fai. Io voglio che tu lo faccia praticamente. Ma come diamine è possibile? No, non è possibile da fare questa cosa. Porca miseria. Annaggia. Ragazzi, ci rinuncio. Primo trick shot della storia che Mar ci rinuncia. Troppo, troppo difficile per me. Non sono totalmente... Cioè non ci arrivo neanche. Siamo da troppo tempo qua. Guarda, da qui. Non... Cioè non so minimamente trovare il ritmo probabilmente per farlo. Ed è proprio quello che mi fa sbagliare probabilmente. Se io da... No, no, no. Ci riproviamo in live. Ci riproviamo in live, raga. Ci riproviamo in live. Non è... Non fa per me questa cosa. Trick shot numero 4. Questo trick consiste nel fare un minecart clutch per due volte. Ma davvero? Ma stai scherzando? Ma io questo qui te lo faccio al primo colpo. Guarda. Ne metto un po'. Ok. Allora, devo fare così. Ci stava, eh? C'eravamo quasi, ragazzo server. Eh, vabbè. Sì, Marci, certamente. Ok. Ok, questo l'ho fatto. Perfetto. Ora da qui devo scendere lì. Non è così facile come sembra, secondo me. L'avevo messo, raga. L'avevo messo. Non ci credo. Va bene. Va bene. Allora. Questo qui dovrebbe essere abbastanza facile. E ok, ce l'abbiamo. Ora dobbiamo fare questo qui, che è completamente più difficile. Non riesco a farlo, raga. Questo è proprio difficile, difficile. Vado. Ok. Fin qua ci siamo. No! No! Sì! 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 Madonna, ragazzi. È piuttosto di quello che sembra. Questo qui è difficilissimo. Provateci da casa e ditemi sotto nei commenti se ce la fate. Colgo l'occasione, ragazzi, per dirvi di commentare con altri trickshot che vorreste vedere nei prossimi episodi. Essendo una delle vostre serie preferite, chiedo aiuto anche a voi. Commentate, commentate, fatelo, dice il ragazzo server. Molto, molto, molto bene. Trickshot numero 5. Dunque, questo trick consiste nel salvarsi della caduta facendo un lillipad clutch. Che sarebbe, ragazzi, semplicemente una roba nel quale dobbiamo proprio togliere la lillipad da sotto. Vediamo se ce la faccio. Ce l'avevo quasi fatta, eh. Raga, sembra facile, ma non lo è per niente. È veramente tosto. Cioè, sembra facile, ma non lo è per niente. Cioè, non pensavo... Adesso, vediamo un pochettino se riesco a... Se io mi piazzo qua... Eh, non è facile, raga, eh. Non è facile per niente. Vediamo se faccio così. Perché la lillipad la rompo, ma non riesco ad arrivare... Ah, davvero difficile, raga. E invece no. Ma per Marti non è niente difficile! Scusate delle mie urla. Lo so, lo so che non bisogna urlare. Ma come si fa a non urlare dopo averlo fatto praticamente subitissimo? Wow, ragazzi. Wow, davvero. Bene, torniamo subito e abbiamo il trickshot numero 6. Questo trick consiste nel centrare un bersaglio e clacciare con l'elitra. Ma che cosa mi stai dicendo? L'elitra dove sono, però? Scusami un attimo. Ah, l'elitra me le dà direttamente, immagino. Ok. Quindi vuol dire che io devo fare tipo così. No, non ha funzionato molto. Difficile, raga, questo, eh? Questo è veramente tosto. Questo è veramente tosto. Secondo me mi conviene andare più velocemente possibile verso di lì e poi fare una roba del genere. Ok, vedete, ci arrivo comunque sempre più o meno vicino. Secondo me devo puntare ancora più in alto, tipo così. Eccolo qua. Ah, ma devo pure mettermela. Ah! Eh, questo è tosto, raga. Questo è veramente tosto. Pensavo che semplicemente l'elitra non dovevo. Cioè me le dava direttamente nell'inventario. Eh, così di fia. Devo strutturarmela meglio. Devo tipo scendere così. Fare così. Eh, raga, questo è veramente difficile. Questo è veramente difficile così. Mamma mia, c'ero quasi! Non ci credo, c'ero quasi! Ok. Ok, ho capito, raga. C'è il trucchetto per fare questa roba. C'è il trucchetto. Lo devo fare così. Ah 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 ah! Ragazzo server! L'ho fatto! Ed's anche questo, raga. Wow, bellissimo! Trick shot numero 7. Questo trick consiste nel fare un totem clutch prendendo un totem dalla chest. Ok, la chest dove sarebbe? Ok. Non dovrebbe... Secondo me non è difficile, raga, questo. Basta che faccio così. In realtà non è stato così facile come sembrava, ok? Ah, devo tenerlo in mano, giustamente. Eh, raga, ho fatto un po' una cavolata qua. Perché era fatto questo, raga, eh? Oh, raga, l'ho fatto al primo colpo prima e non riesco più a farlo? Oh, Marci, svegliati! Ah, me lo metti lì, raga. Che stupidino che sono. Dai, dai, questa è la volta buona. Questa è la volta buona, raga. Tranquilli. Eh, volevi che fosse la volta buona, eh? Porca miseria, raga. Non è così facile come sembra. Va bene, va bene. Qua l'ho sbagliato. Perché l'ho preso due volte senza impostare che lo slot alimentario giusto era l'ottavo. Bello, bello. Questo bellissimo, raga. Penso che fino adesso quelli, diciamo, di aprire le chest mi è piaciuto di più. È forse uno dei miei preferiti, questo qua. Trick shot numero 8. Questo trick consiste nell'incentrare i gambali mentre cadi nel vuoto. Oh mio Dio. Ok. Devo capire un attimino cos'è, come che funziona. Se faccio così. Ok. È abbastanza difficile, raga. Devo mettere prima questo e poi quello. Vado. Ok. Ma è impossibile da fare questo, ragazzo server. Come cavolo dovrei fare esattamente? Ok. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Devo aumentare la sensibilità, tipo. No, aspetta. Ci vuole velocità di flash. Aspetta. Fammi aumentare un pochettino il mouse control, il mouse setting. Eh, ma non cambiamo moltissimo, eh. No, non ce la faccio, raga. Devo metterli qua, questi qua. Devo capire bene come fare. Ok. Ci sono quasi. Ci sono quasi, raga. Ci sono quasi. Devo praticamente mettere questi qui, in questa parte qua. E sicuramente diventa più facile. Ok, può essere facile. Va bene, va bene, va bene. Facciamo così. Ok, ci riprovo. Ci poteva stare. Ci poteva stare. Ci poteva stare. No, ci poteva stare di nuovo, ma metto sempre prima il libro. Non va bene. Devo mettere prima i piedini e poi il resto. Ok. Ok, ok, raga. Devo concentrarmi. Mi concentro. Raga, ci rinuncio. Non ci... Allora, è facilissimo. Secondo me questa è veramente facile. C'è tutta una questione di velocità che io non riesco ad avere in questo momento. Non capisco il perché. Adesso qua ho messo addirittura i... Eh, gamba, i piedini. Non ci riesco, raga. Perché non... Non riesco ad avere il mood giusto per farlo. Non capisco il motivo in realtà. Perché non è così impossibile, secondo me. E basta... Eh, vedi. Non ci riesco. Basta, basta, basta. Basta, basta. Perché se no esco pazzo. Già il video sta durando troppo. Perché, raga, veramente. Tra questo e quello di prima. Non mi ricordo di aver veramente avuto proprio... Avete pensato di ripolansia in corpo, nello stomaco? Siamo da un'ora e mezzo qua, più o meno. Allora, trick numero 9. Questo trick consiste nel craftare un secchio mentre cadi, prender l'acqua e salvarti. Allora, questo è tosto. Questo è un altro... Questo è un altro bel clutch, bello tosto, eh. Ci posso provare, però. Eh... 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 No, questo... Ah, raga, questo è uguale a prima. Non ci riesco. Non ci riesco. Dovrei fare, però... Eh... Bucket. Aspetta. Devo far così. Devo aprire per forza... Devo aprire la chest prima. Andare sul bucket. Poi se la riapro... Eh, non me lo dà. Devo far così, tipo. Oddio, potrebbe aver senso, però. Raga, potrebbe aver senso come cosa, eh. Potrebbe... Ci provo un po' di volte. Niente, raga. Non riesco a fare nemmeno questo. Ho questi due qui. Ah, raga, questi qua di velocità col mouse non ci riesco. Io ho un problema. Ora ve lo spiego. Fate caso che questo qui è il mio tappetino del mouse. Ora mi metto in full screen. Fate caso che questo è il mio tappetino del mouse. Che poi è anche di Minecraft. Io non faccio queste cose qua. Io lavoro tipo così di velocità. E quindi il mio problema è che non riesco ad essere preciso. Con i comandi e i movimenti. E questa cosa, raga, mi risulta un pochettino un problema. Quindi va bene così. Va bene, va bene, va bene. Andiamo col trickshot numero 10. L'ultimo di oggi. Questo trick consiste nel fare uno slimeball parkour. Che cosa vuol dire uno slimeball parkour? Fammi capire un attimino. Tipo, devo fare così. Oh mio Dio. Ma questo è uno spettacolo. Oh, di poco, eh. Di poco. Sì, snowball, non slimeball. Scusami. Ok. È bellissimo. È bellissimo. Questa, raga, è bellissimo. Voglio partire da qua, però. Aspetta. Facciamo così. Ok. Oh, ce l'ho quasi. Ce l'ho quasi. Ce l'ho quasi. Raga, è bellissimo questo, eh. Ok. È che il problema è che devo essere un pochettino più svelto nel farlo. Ovvero, devo farlo prima. Devo farlo un pochettino prima di arrivare. Perché sennò rischio che non ce la faccio. Tipo così, così e così. Ezz, raga. Tutti questi qua riesco a farli quasi subito. Solo quelli di crafting e prendere tramite chest. Faccio davvero un sacco fatica. Fatemi sapere sotto nei commenti, se il video vi è piaciuto. Facciamo una cosa. Uno di voi vincerà l'abbonamento sul mio canale live. Scrivete nei commenti qual è stato il vostro trickshot preferito. E io ne sceglierò uno a caso. Da Marcio è tutto. Ciao a tutti.